Recite, concerti e balletti nelle notti d'estate nella suggestiva cornice di otto mulini storici delle province di Bologna, Forlice-Sena, Modena, Piacenza, Ravenna e Rimini. Questa è la nuova rassegna ideata da Ater Fondazione Dimes insieme alla Regione Emilia-Romagna dal titolo Macinare Cultura. A partire da sabato fino al 27 settembre verranno messi in scena nove spettacoli, un modo originale per vivere l'esperienza teatrale in una location diversa che permetta anche di riscoprire quello che è un patrimonio storico del territorio, vale a dire gli antichi mulini. Macinare Cultura è veramente un nome formidabile per indicare un festival itinerante in una dosina di mulini storici della nostra regione, ancora ben restaurati, perfettamente funzionanti. Un festival a cui concorre la nostra compagnia di balletto, concorrono diversi artisti importanti da Ambrogio Sparagna a Ginevra di Marco, concorre anche due concerti di questo impegno che la Toscanini ha assunto verso la Regione, perché la Toscanini questa estate farà un centinaio di concerti in tutte le località della Regione, confermando un radicamento nel territorio che per noi è molto significativo.